Essere uno studente universitario. Essere una studentessa dell'Università di Siena. Che cosa vuol dire? Vieni a scoprirlo dal 28 al 31 agosto. Iscriviti alla nostra scuola estiva di orientamento ed entra nel cuore della vita universitaria. Quattro giorni di lezioni, incontri, seminari, ma anche tanto divertimento alla scoperta dell'Università e della città di Siena. Tutto questo insieme a noi tutor. Quattro giorni per conoscere le opportunità di studio offerte dalla nostra Università. Quattro giorni per iniziare a progettare il tuo futuro. La scuola è totalmente gratuita. Hai tempo fino al 12 luglio per iscriverti. Sono 80 i posti disponibili se vieni da fuori in residenza. Se invece sei di Siena, i posti disponibili senza residenza sono 50. Per saperne di più e per iscriverti, visita Orientarsi, il portale dell'Università di Siena dedicato all'orientamento. Oppure puoi contattare il nostro ufficio orientamento scrivendo una mail a orientamento-unisi.it Noi abbiamo scelto Siena. Vuoi sapere perché? Vieni a vedere! Ti aspettiamo dal 28 al 31 agosto alla nostra scuola estiva di orientamento.